Viaggiare, viaggiare attraverso la musica, attraverso gli effetti speciali della notte, con la musica di Carlo Raffalli, con la sensualità di Chiara e Deborah. Robo del altro mondo, Lady Helena, the fast lady, body to body, now, body to body, now. Robo del altro mondo, Lady Helena, the fast lady, body to body, now. Body, now, body to body, now, body to body, now. Viaggio ultrasterare attraverso la musica. Viaggio ultrastera attraverso la musica. Viaggio ultrastera attraverso la musica. Viaggio ultrastera attraverso la musica. Grazie a tutti. Grazie a tutti.